La mia relazione che parla di un clinico, ho studiato a lungo questa particella della cellula che è il mitocondrio, si ricollega un po' con quello che ha detto il professore che mi ha preceduto e vorrei anche che fosse un contributo a questo studio perché può essere sicuramente un complemento per questo. Quindi vediamo innanzitutto qual è il ruolo del mitocondrio partendo anche da quello che è il sintomo che i miei pazienti mi manifestano più spesso, il problema dell'astenia. Vediamo che ogni patologia cronica si manifesta con la stanchezza, io ho fatto un programma per utilizzare cui insegno tutti i miei sintomi dei miei pazienti e il sintomo che manifestano nel 30% dei casi è la stanchezza e questa stanchezza è da una parte il segno patognomonico della malattia cronica dall'altra parte è anche un segno, un sintomo di problema mitocondriale proprio perché la gran parte dell'energia del nostro corpo è prodotta a livello mitocondriale e quindi la malattia cronica è innanzitutto espressione, quando c'è appunto questo problema di astenia, di problema mitocondriale. I mitocondri sono sostanzialmente degli antichi batteri che due miliardi di anni fa hanno parassitato la cellula primitiva ed hanno anche una loro residua autonomia cellulare che si riflette nel loro DNA, nel loro frammento di DNA. Lì c'è un discorso molto interessante fatto da questa grande scienziata che è Lynn Margulis la quale parla della teoria dell'endobiosi e parla del concetto di simbiosi che va non ad antagonizzare ma a completare un po' la teoria darwiniana dell'evoluzione quindi l'evoluzione non avviene solo, secondo questi ultimi concetti, per un concetto di competizione ma l'evoluzione avviene anche perché c'è una cooperazione, un'interazione, una collaborazione mutualistica delle varie strutture, i vari componenti delle cellule. Quindi questo è un concetto abbastanza interessante e molto innovativo. Quindi nella cellula che noi conosciamo, di cui abbiamo appena adesso sentito parlare, questa cellula ha una parte che è il suo nucleo e il suo citoplasma che deriva da un antico archeobatterio incapace tra l'altro di utilizzare l'ossigeno e con una sua funzione e capacità sostanzialmente proliferativa che viene poi appunto parassitato da questo protobatterio che è il mitocondrio il quale ha una scarsa capacità proliferativa come l'altra cellula ha una scarsa capacità energetica e ha però invece una grande capacità energetica attraverso la sua nuova capacità di utilizzare l'ossigeno cosa che è avvenuta nel momento in cui tra l'altro l'atmosfera terrestre stava riempendosi di ossigeno grazie all'azione delle alghe verdi e blu eccetera eccetera. Quindi sono queste due grandi entità nella nostra cellula da una parte appunto questo archeobatterio che da una parte utilizza il glucosio e produce scorie sostanzialmente anche al di fuori della cellula e dall'altro il protobatterio ovvero il mitocondrio che invece utilizzando l'ossigeno riduce a anidride carbonica atomi di idrogeno ed acqua le varie sostanze e quindi crea energia senza inquinare sostanzialmente quindi è un'energia molto pura. Quindi abbiamo questi due elementi questo elemento del mitocondrio il quale supera la capacità che è solo riproduttiva e di sopravvivenza e di proliferazione della cellula primordiale e utilizza in un certo senso questi prodotti non completamente digeriti della cellula per produrre per produrre energia energia la quale sarà utilizzata per permettere alla cellula di evolvere e di specializzarsi nelle varie funzioni quindi la vita ha potuto sulla cellula realizzarsi nella forma più evoluta vita come organi complessi fatti di fegato di reni di cervello eccetera eccetera solo grazie all'energia che è stata resa possibile dall'efficienza del mitocondrio e qui per ricollegarmi appunto quando abbiamo detto prima si inserisce anche il concetto di questo premio Nobel del 1930 che tra l'altro è stato uno dei maestri anche del nostro grande maestro Rechiavec che è stato il fondatore dell'omotorsicologia il quale Warburg ha visto come una cellula normale può trasformarsi in cellula neoplastica nel momento in cui sia privata di ossigeno nel momento in cui la cellula viene privata di ossigeno i mitocondri non funzionano più e si attivano gli oncogeni e diventa cellula neoplastica a sua volta una cellula neoplastica può ridiventare cellula normale nel momento in cui reinserisce l'ossigeno e reattivi la funzione mitocondriale cosa che è stata fatta anche in maniera molto più elegante in un certo senso anche perché negli anni 2000 2010 2012 prendendo delle cellule hanno preso delle cellule neoplastiche partendo dal concetto che il cancro parte da un problema di tipo genetico nucleare hanno preso il nucleo di una cellula neoplastica e l'hanno trapiantato in una cellula normale l'hanno fatto su una ottantina di cellule e cosa hanno visto che nonostante questo nucleo geneticamente neoplastico il 99% di queste cellule non si trasformavano in cellule neoplastiche perché la trasformazione in neoplasia era controllata dall'azione mitocondriale poi hanno fatto la controprova hanno preso una cellula neoplastica ovvero una cellula in cui i mitocondri non funzionavano o funzionavano malamente i mitocondri non funzionano funzionano in maniera scorretta e hanno trapiantato un nucleo normale e questa cellule tutte queste varie esperimenti che hanno fatto si trasformavano per la gran parte in cellule neoplastiche quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che in realtà la trasformazione neoplastica ha sì una partenza nel nucleo ma è condizionata dall'efficienza mitocondriale quindi questa è una cosa straordinaria perché in realtà ci fa dire che ci può essere anche un periodo di latenza in cui la cellula può essere anche riprogrammata a ritornare nella sua fase di capacità differenziativa quindi il concetto di Warburg è stato un concetto estremamente importante su cui ancora si lavora alcuni dicono ma in realtà non è del tutto vero che sia un discorso cellulare che sia invece un discorso connettivale che sia il connettivo che essendo infiammato essendo sovraccarico di acidosi e di tossine causa il problema tumorale però anche questo è la stessa cosa perché in realtà perché il connettivo si sovraccarica di acidosi perché il mitocondrio non funziona non riduce l'acido piruvico all'aridride carbonica e d'acqua e quindi inquina di sostanze di acido il connettivo stesso quindi si ritorna sempre al discorso mitocondriale quindi grande importanza di questi mitocondri ogni cellula ne contiene 3 o 400 le cellule più evolute ne contengono di più le cellule meno evolute le cellule più atte alla proliferazione come per esempio le piastrine ne contengono molto meno e rappresentano il 10% del nostro corpo quindi importanza fondamentale di questi organi organi che servono a produrre appunto energia ma anche a sintetizzare basi puriniche a sintetizzare l'eme il colesterolo gli ormoni gli ormoni steroidei eccetera eccetera ma anche a produrre quello di cui abbiamo parlato anche oggi le citochine e gli interferoni gli interferoni vengono prodotti a livello mitocondriale e anche a produrre quei radicali liberi che servono anche ad uccidere naturalmente le cellule plastiche i batteri e così via quindi hanno una funzione estremamente importante che possiamo riassumere in quattro punti da una parte l'azione come dicevo prima catabolico-depurativa le sostanze che noi assumiamo con la dieta vengono sostanzialmente tutte trasformate i lipidi le proteine e i carboidrati in acetil-CoA e il mitocondrio lo demolisce sostanzialmente ad anidride carbonica ed acqua ed è una completa demolizione la quale porta alla produzione di una gran quantità di energia ma il mitocondrio non solo innesca il ciclo di Krebs e la fosforiologia ossidativa ma anche innesca il ciclo dell'urea attraverso cui vengono anche depurate e metabolizzate le scorie azotate cosa vuol dire questo vuol dire che se si verifica un blocco della funzione mitocondriale o anche una riduzione della funzione mitocondriale e quindi non avviene una completa metabolizzazione di queste sostanze abbiamo una ripercussione a monte che vuol dire diabete che vuol dire ipercolesterolemia iperuricemia inquinamento connettivale eccetera eccetera il secondo punto è il concetto della regolazione della apoptosi cellulare programmata la cellula che non funziona la cellula disfunzionata vecchia deve morire ed è il mitocondrio che percepisce la cattiva funzionalità di questa cellula la devianza di questa cellula manda un segnale ovvero libera dei citocromi dal suo interno i quali citocromi attivano le castasi le quali innescano la morte della cellula e quindi impediscono che qualsiasi cellula possa eventualmente anche nel corso del suo invecchiamento o della sua malfunzione diventare una cellula neoplastica cosa che è molto interessante perché qui dobbiamo tenere conto che questa attivazione delle caspasi e attivazione mitocondriale può essere può curare e può prevenire le malattie autoimmuni e le malattie neoplastiche ma anche vuol dire che in certi casi dobbiamo addirittura frenare il mitocondrio o stare attenti che il mitocondrio non produca una quantità eccessiva come sarebbe nella sua indole in un certo senso di radicali liberi nel qual caso ci serve questo per prevenire patologie come l'invecchiamento dell'Alzheimer quindi noi dobbiamo non fare un'azione univoca e unidirezionale sul mitocondrio ma dobbiamo fare un'azione di regolazione sul mitocondrio che sarà adattata a seconda di quello che vogliamo ottenere sul nostro paziente quindi il cancro nel passaggio della cancerogenesi che va dal deficit di utilizzazione di ossigeno alla mancata apoptosi all'inibizione della risposta immunitaria legata all'ambiente acido alla diffusione nel connettivo lasso dei tessuti è tutta sostenuta in tutte le varie tappe dalla funzione mitocondriale cosa vuol dire questo? vuol dire che in realtà l'attivazione mitocondriale che noi faremo nei nostri pazienti non è importante solo a livello di prevenzione ma è importante in tutte le tappe di questa malattia questa è l'altra cosa estremamente importante l'altra funzione ancora di mitocondrio è quella di stabilizzazione della membrana il mitocondrio è quello che regola i flussi e degli ioni calcio all'interno delle membrane cellulari ed è quello che stabilizza le membrane cosa vuol dire stabilizzare le membrane vuol dire che per esempio la parte superficiale delle cellule che si chiama glicocalice è quella membrana che permette una corretta sensibilità della cellula agli eventi esterni della cellula che permette alla cellula di rispondere in maniera corretta per esempio allo stimolo degli ormoni polipeptidici gli ormoni polipeptidici non entrano nella cellula vanno ad attivare i recettori di membrana della cellula e questo è possibile quindi parliamo di ormone somatotropo di insulina di glucagone eccetera eccetera e questo è possibile solo se questa cellula è integra l'integrità di questa struttura cellulare che è glicocalice è sostenuta dal mitocondrio quindi regolazione legata a questo quarta e importantissima ruolo del mitocondrio è quello di sintetizzare gli ormoni steroidei noi sappiamo che ormoni quali il DEA e tutti i vari ormoni steroidei sono quegli ormoni che in realtà ci proteggono dalle malattie croniche noi abbiamo due ormoni legati con la longevità una è la melatonina che in realtà è un ormone che ci fa vivere più a lungo rallentando il nostro metabolismo poi abbiamo il DEA che è quell'ormone che non ci fa vivere più a lungo ma non ci fa ammalare di malattie croniche quindi è un concetto estremamente importante che è proprio intrinseco di un concetto mitocondriale il mitocondrio non fa vivere a lungo la cellula la fa vivere bene quella cellula non funziona evita che diventi cellulina plastica le uccide e fine quindi c'è un concetto molto interessante quindi uno vive quel periodo della vita che deve vivere però lo vive in efficienza non conta arrivare a 120 anni pieno di cannette flebo eccetera e questo vale anche per la cellula naturalmente quindi il mitocondrio ha queste due grandi azioni un'azione di tipo depurativo quindi di completa metabolizzazione dei substrati di eliminazione cellule mal funzionanti e un'azione di tipo regolatoria sulle funzioni della membrana e sulla funzione endocrinometabolica e l'efficienza mitocondriale è importante non solo nelle malattie acute perché dicevo è dove si produce l'interferone quindi qualsiasi malattia virale è legata la sua guarigione nella produzione dell'interferone ma anche nelle malattie croniche perché la malattia cronica ha bisogno di un corretto metabolismo ha bisogno che si produca una giusta quantità di ATP e così via quindi ha un ruolo centrale nella salute del nostro organismo tra l'altro noi come mammiferi partiamo da un momento svantaggiato gli uccelli per esempio hanno dei mitocondri molto più efficienti dei nostri gli uccelli sono la parte evolutiva dei rettili i rettili hanno avuto molto tempo di evolversi nella storia della vita e gli uccelli hanno molti mitocondri molte catene respiratorie producono molta energia e hanno una bassa produzione di radicali liberi questo anche ci spiega le capacità degli uccelli anche di volare molto a lungo di avere questa grande capacità energetica e anche questa sopravvivenza è molto lunga rispetto ad altri animali il mammifero invece in realtà ha pochi mitocondri in tensione relativo e anche produce una maggior quantità di radicali liberi a livello mitocondriale e qui vediamo come in realtà andando a vedere quasi tutte le patologie croniche desiderative i mitocondri entrano quindi non ci sono solo le malattie mitocondriali in cui è evidente proprio è diretto il danno mitocondriale e patologia ma quasi tutte le malattie croniche a qualsiasi livello hanno una valenza mitocondriale quindi cosa possiamo fare ci si chiede adesso ad un'acusista medico clinico pratico per supportare questa particella così importante noi dobbiamo da una parte supplementare il mitocondrio da una parte proteggerlo da una parte stimolarlo supplementarlo in maniera molto attenta perché naturalmente se noi supplementiamo troppo il mitocondrio andiamo a creare delle reazioni ossidative che poi saranno sconvenienti a livello per esempio cardiovascolare se invece non lo stimoliamo andiamo a creare dei problemi in ambito neoplastico c'è il solito discorso che la nostra la salute non è un discorso lineare ma è un discorso di continuo bilanciamento noi non possiamo avere una dice io voglio essere stabile sano stabile punto tu puoi essere sano in questo continuo bilanciamento della tua bilancia TH1 TH2 di quello che è la salute del tuo sistema cardiovascolare di quello che è la proliferazione delle tue cellule staminali di quello che invece è l'arginamento dell'eccessiva progettazione di queste cellule staminali questo problema è estremamente complesso e dinamico quindi supplementazione può essere una supplementazione generale il ribosio per esempio è un pentoso che fa parte dell'ATP ed è importante per far creare al mitocondrio l'energia all'ATP la carnitina sicuramente è molto importante che veicola all'interno del mitocondrio il colesterolo e crea poi la produzione di energia la supplementazione può essere anche specifica rivolta più al ciclo di Krebs che ha un ruolo anche metabolico cioè anche anabolico oppure rivolta prevalentemente alla fosfoliase acidativa che è un ruolo soprattutto energetico quindi possiamo modulare e regolare la nostra supplementazione poi dobbiamo proteggere il mitocondrio perché il mitocondrio dicevo non ha una membrana nucleare in cui lui protegge il suo il suo DNA come ha la cellula che noi conosciamo ha un filamento di DNA buttato lì in questa sua matrice e in questa matrice avvengono reazioni ossidative estremamente violente ecco perché allora il meccanismo di glutazione della catalasi della superostia delle smutasi sono molto importanti ma tra l'ora non sono sufficienti e quindi ci sono tutta una serie di ricerche cercando di trovare delle specifici tipi di vitamina E con enzima Q10 e così via che vadano a proteggere il mitocondrio quindi c'è un grande studio su questa protezione mitocondriale che non è così immediata ma è che dove ha un po' di vitamina E e questo va a livello mitocondriale e poi c'è invece la cosa che a me affascina di più e che interessa di più anche a noi che è la stimolazione del mitocondrio quella che in realtà noi possiamo fare e che facciamo già da molti anni e che è stata ideata partendo dai concetti di Warburg l'ha inventata Rekeweg andando a scuola da Warburg che è quella di somministrare dei substrati e dei catalizzatori mitocondriali in low dose perché low dose l'abbiamo già visto oggi perché la low dose la low dose è una dose fisiologica la low dose non vuol dire nulla non vuol dire dose ponderare che in questo caso non servirebbe vuol dire dose fisiologica che è del nostro organismo e c'è una legge ben chiara della fisico-chimica che è la legge di Michaelis Mente che si spiega che perché agiscono le low dose vediamo che il modello cinetico spiega come l'aumentare di poco della concentrazione del substrato disponibile all'enzima aumenta la velocità di reazione fino a raggiungere un massimo quindi a un certo punto cosa vuol dire questo che se noi introduciamo un catalizzatore all'interno di un sistema enzimatico avremo certamente una correzione di questa velocità enzimatica correggeremo questa velocità però darne più di tanto non serve a un certo punto tu vai a saturare il tuo enzima e quindi tutto il resto non serve a niente presumibilmente farai un danno creerai delle scorie invece se tu dai una dose fisiologica vai a saturare e fai quella cosa corretta che è di attivare in maniera corretta le tue capacità enzimatiche fisiologiche in realtà io ho preso anche proprio di tutto la sperimentazione i lavori scientifici bellissimi che sono stati fatti sulle citochine in lo dose e attivate col metodo SKA vanno un po' a giustificare a spiegare anche l'azione dei rimedi in lo dose che usiamo per stimolare il mitocondrio quindi c'è il discorso citochinico è un discorso che prolunga e completa l'esperienza l'esperienza omotossicologica Rekeweg moriva nel 1981 la ricerca in Germania si è fermata lui la ricerca è continuata in Italia voglio dire i lavori di Rekeweg è continuata in Italia con i lavori sulle citochine che hanno spiegato anche il consentito di Rekeweg quindi possiamo dire che c'è un'unitarietà di pensiero e di azione clinica molto interessante il coenzime compositum è il farmaco il rimedio perfetto di stimolazione del ciclo di Krebs io che ho gli appunti di Rekeweg diremmo proprio scritti da lui a mano una matita dove lui correggeva le formule e così via so anche come l'ha fatto lui queste formule queste formule non è che ha fatto a caso che ha messo a caso il natron salacetico alla D6 e poi si è inventato col pendolino di mettere l'altro alla D8 lui ha fatto continue sperimentazioni cliniche in contatto con tutta una serie di medici e ha corretto gradualmente nell'arco di una ventina d'anni le varie diluizioni ovvero le varie quantità dei rimedi per ottenere una specifica azione a livello cellulare che poi andava sperimentando a livello clinico eccetera eccetera e il coenzima compositum agisce con i suoi componenti a tutti i livelli del ciclo di Krebs in particolare vediamo che ci sono tutti i substrati del ciclo di Krebs ognuno ha un ruolo ben preciso ma la cosa ancora più interessante è che se noi andiamo a vedere ci sono tantissime patologie che non spieghiamo col blocco di uno o dell'altro dei passaggi del ciclo di Krebs l'accio fumarico è coinvolto il blocco di questo passaggio con la depressione l'autismo l'apsoriasi il passaggio dell'acido marico quando si è iperattivato bloccato il volto col diabete per esempio ed è bloccato dalla candida una delle ragioni per cui la candida non è una patologia trascurabile ma è una patologia potenzialmente molto pericolosa è perché questo fungo va a interferire producendo acido tartarico proprio sul passaggio del ciclo di Krebs dell'acido marico va quindi a bloccare la funzione mitocondriale quindi cominciamo a capire perché sia fondamentale cercare l'eventuale candidosi e curare l'eventuale candidosi perché da una banale candidosi nell'arco di un po' di tempo creiamo una cancerosi e creiamo un blocco mitocondriale che ti porta ad una malattia cronica che è molto problematica l'acido cisaconditum è legato nella sua funzione con l'ipertrofia prostatica il sucidico che proviene di anemia l'acido citrico è legato con tutto il metabolismo dei lipidi e l'acido alfaticolo citarico con i problemi delle miopatie quindi ogni momento del ciclo di Krebs ha un suo significato clinico molto importante e poi nell'ambito sempre di questo rimedio complesso io credo molto nei rimedi complessi perché i rimedi complessi rappresentano il sinergismo noi sappiamo bene cos'è la legge di Burgi di farmacologia che vuol dire che se tu metti insieme due sostanze correttamente mescolate non hai uno più uno fa due ma hai uno più uno fa tre c'è il sinergismo di queste azioni quindi avere all'interno di questa sostanza il NAD derivato da vitamina D B3 B3 vuol dire catalizzare le varie reazioni ma serve che il FAD perché rallenta una delle reazioni ci serve questo equilibrio tra il FAD e il NAD e poi tutte le varie vitamine che ovviamente sono importanti nella loro diversa diluizione che è legata alla loro diversa funzione questo è un altro concetto non mettiamo dentro le vitamine 10 microgrammi di tutte a caso no sono dosate a seconda di quello che è il loro ruolo e quella che è la loro importanza nel biochimismo del ciclo di Krebs e naturalmente ovviamente il ruolo è fondamentale degli oligoelementi gli oligoelementi sappiamo lo zolfo è fondamentale per i passaggi depurativi della cellula il magnesio è quello che permette la formazione e la veicolazione interna della cellula dell'ATP e il manganese è quello che permette che catalizza i vari passaggi biochimici quindi è fondamentale e naturalmente somministrati questi oligoelementi in un certo modo sono assorbiti dalla cellula in maniera ottimale ma non dobbiamo dimenticare che se esiste il ciclo di Krebs e la fossile ossidativa a livello mitocondriale non possiamo pensare che siano due cose disgiunte beh io posso agire solo su una come dicevo prima o solo sull'altra se mi interessa avere una produzione endogena di sostanze tipo anticorpi ormoni eccetera che ho nell'ambito del ciclo di Krebs oppure solo sulla fossile ossidativa se voglio agire sulla rifornimento energetico ma in realtà le due cose sono connesse quindi la cosa migliore è usare lavorare su entrambi i processi lavorare sul sul ciclo di Krebs e sulla connessa fossile ossidativa che è il punto dove si produce la grande quantità di energia cellulare e qui deriva quello che ormai tutti sanno anche tutti gli integratori i farmaci antiinvecchiamento eccetera tutti parlano di questo coenzima Q10 come elemento di produzione energetica perché l'elemento terminale della catena respiratoria è quello che attira in realtà gli ioni idrogeno a livello dell'ossigeno per ridurre l'ossigeno e creare energia però anche lì somministrare il Q10 così gli do il Q10 e ne dai tanto è sostanzialmente una cosa un po' grossolana sostanzialmente è importante perché noi vediamo che noi invecchiamo proprio perché i nostri mitocondri diventano carenti di Q10 sapete la causa più frequente di morte la causa terminale è l'insuicienza cardiaca il cuore si ferma perché non ha più energia non batte più si ferma perché non batte più perché non vengono più prodotti prodotti ATP nei mitocondri perché i mitocondri pian pianino si sono alterati per la carenza di Q10 che vediamo essere più critica a livello delle cellule cardiache quindi è importantissimo il rifornimento di quell'enzima Q10 che troviamo in parte nell'alimentazione eccetera eccetera però abbiamo anche questo concetto che il Q10 viene assorbito molto male essendo una sostanza liposolubile quindi si tende magari a lavorare sulle quantità e a fare anche un po' confusione perché a volte viene assorbito di più di meno eccetera eccetera mentre invece ha un senso se non è compiuto la somministrazione con l'enzima Q10 in forma iniettiva e in quantità fisiologica che è in low dose questo è il concetto più più logico e razionale della medicina tenendo conto comunque di questo che dicevo prima che dobbiamo sempre essere molto attenti di non fare un danno io do il Q10 attivo le ostillazioni bitocondriali brucio il DNA sì ho un po' di caldo nella mia stufa cellulare però poi a un certo punto ho finito il rifornimento e si spegne e si spegne i calori ed ecco allora la grande intuizione di Rekeweg che è stata presa poi da tutti i grandi studiosi della prima parte del secolo scorso che hanno studiato su questo su questi concetti che è quello di dire io non do il coenzima Q10 e basta ma do una una miscela di di molecole affini al coenzima Q10 do una miscela di chinoni che abbiano dei diversi potenziali ossido riduttivi in modo da creare una una sorta di funzione equilibrata stimolante ma riequilibrata nell'ambito della forse di lage ossidativa da una parte c'è l'idrochinone e il chinidrone che hanno una valenza riduttiva quindi sono degli antiossidanti è come mettere un antiossidante alla fine della catena respiratoria dall'altra ci sono il parabendrochinone il naftachinone l'antrachinone che sono più ossidanti che sono più energizzanti che sono più stimolanti do tutte queste sostanze insieme per dare un stimolo più vasto e più completo e secondo me è come quando io uso io studio a fondo anche la fitoterapia come sapete e molte volte io non uso una pianta uso un gruppo di piante affini per esempio se io devo usare la curcuma molto spesso io uso la curcuma lo zenzero e il cardamono che sono della stessa famiglia in dose diverse però c'è una sinergia tra queste tre piante tra loro affini e hanno una stessa direzione d'azione la stessa cosa si fa con queste molecole affini con la stessa direzione d'azione e quindi hanno un'azione uno spettro molto più ampio e una minor incidenza di effetti collaterali che a questo livello capite sono molto molto importanti ecco allora questo ubiquinon composto che è un farmaco importante lo chiamo farmaco perché è un farmaco di tutti gli effetti ha un'azione estremamente profonda e contiene non solo queste molecole clinoniche alcuni substrati chiave del ciclo di Krebs perché non vuole essere stimolo globale del ciclo di Krebs ma vuole essere comunque un sostegno del ciclo di Krebs e poi però si tiene conto del fatto che comunque quando io tocco la fosfilagia ossidativa vado a creare degli stimoli ossidativi potenziali e quindi ci sono vitamine e minerali traccia che antagonizzano questo stimolo e anche delle piante che noi conosciamo molto bene che sono piante antineoplastiche ovvero che ci vanno a coprire su questo eventuale stimolo ossidativo quindi io regolo a livello clinico cosa mi comporto con i miei pazienti ho queste due sostanze ho l'ubicinone composidum e il coenzime composidum che agiscono su questi due aspetti della funzione mitocondriale abbiamo visto anche prima abbiamo sentito parlare di queste cellule staminali abbiamo anche sentito che la cellula staminali ti può sfuggire di mano manipolare le cellule staminali con i virus dell'ADS può determinare tu immetti una cellula staminali che poi si cancerizza con questo sistema di azioni mitocondriali noi andiamo a regolare anche la funzione di queste cellule staminali su cui noi lavoriamo però ci regoliamo con questa bilancia con questa bilancia di questi due di questi due elementi quindi la terapia di supporto mitocondriale che viene fatta somministrando questi rimedi per endovena per flebo sottocute localmente o in tramuscolo deve tener conto del fatto di dico se noi vogliamo avere un ruolo più cosa è successo? evacuare tutto? perché non l'ha detto non l'ha detto non l'ha detto cosa ha detto? che cosa ha detto? che ha detto di rinuncio e di rinuncio che tutti quanti dobbiamo essere pronti per il rinuncio grazie quindi evacuare io tra poco finisco e poi possiamo evacuare lo dicevo che io dovrò valutare la fase in cui mi trovo ricordate dalla motopsicologia di fronte a un paziente dobbiamo capire se siamo in una fase umorale ovvero di malattia che colpisce che è ancora reversibile o se siamo in una fase cellulare ovvero abbiamo passato la barriera la scissura biologica a seconda di dove ci collochiamo il nostro paziente in quella che noi conosciamo bene se la fase la tavola della motopsicologia della motopsicologia ovvero la tavola della progressione delle patologie useremo una maggior quantità di quei enzimi e compositum o una maggiore quantità di ubicchio non compositum detto in altri temi possiamo dire per esempio che nel bambino è molto più giovevole ed utile il coenzimo e compositum perché è quasi sempre in fase ovviamente umorale nell'anziano anziano andiamo sempre più verso una fase cellulare e sarà molto utile invece usare maggior quantità di ubicchio non composito quindi come possiamo concludere questo discorso che ormai è universalmente riconosciuto il ruolo dei mitocondri nella maggior parte delle patologie croniche ormai tutti lo dicono nei vari istituti di ricerca in medicina convenzionale non esiste nonostante tutte le ricerche una attendibile terapia mitocondriale sono queste terapie un po' generiche infusioni di vitamina C di glutatione però sono così buttate lì da oltre 50 anni invece in tutto il mondo continuano le esperienze cliniche positive con il piede di preparati low dose complessi di supporto mitocondriale e nonostante sia necessario ovviamente fare delle ricerche molto profonde in vitro e così via su questi preparati la loro validità clinica è provata la cosa interessante che ho visto in varie ricerche cliniche che ho fatto per esempio nell'ambito di insufficienza cardiaca o altre patologie croniche è che nel momento in che tu rivitalizzi il mitocondrio con queste sostanze tu lo vedi e si prova strumentalmente ad esempio a livello cardiologico gli effetti durano nel tempo non è che tu smetti oggi come può essere per qualcuno un farmaco convenzionale smetti oggi e ti torna domani smetti oggi e la funzione cardiaca continua a essere migliorata rispetto a prima per 6, 7, 8 mesi qui c'è una vera funzione di questo vuol dire che c'è una vera funzione di rivitalizzazione e riattivazione mitocondriale che continua poi nel tempo e che poi naturalmente dovrà essere ripresa quindi mi sembra un discorso molto interessante che deve essere valutato in tutti gli ambiti praticamente della clinica della medicina interna grazie